Il panorama televisivo italiano si prepara per una rivoluzione, le voci di corridoio sono state confermate e la nuova direzione dei Grande Fratello è ora un dato di fatto. Ad Alfonso Signorini è stata affidata una sfida inedita in qualità di conduttore del celebre reality show. Nonostante le performance dei partecipanti del GF VIP7 abbiano sollevato non poche polemiche. Il sodalizio tra Signorini e Il Grande Fratello ha avuto l'approvazione di Pier Silvio Berlusconi, che si è detto compiaciuto delle gesta del presentatore. Dopo aver superato l'ostacolo delle controversie sorte nell'ultima edizione, il programma ora si proietta nel futuro con una decisione ufficiale che ha scatenato l'entusiasmo dei fan. L'annuncio ufficiale è stato reso pubblico attraverso i canali social del Grande Fratello, generando immediatamente un'ondata di entusiasmo tra il pubblico. L'attesa per la proclamazione di questa scelta era palpabile e, dopo un lungo periodo di riflessione, è stata finalmente presa nelle ultime ore. Questa decisione rappresenta una svolta per il mondo della televisione, aprendo nuove possibilità e portando un vento di cambiamento che promette di rivitalizzare il format. Gli spettatori, che già contano i giorni che li separano dall'inizio della nuova stagione a settembre, stanno salutando con gioia la prospettiva di avventure inedite all'interno del Grande Fratello. L'annuncio chiarisce che si tratterà di un'edizione del tutto diversa dalle precedenti. A sorpresa, la prossima sarà infatti una versione NIP del GF, come annunciato attraverso i messaggi diffusi sui social del programma. Questo significa che sarà data priorità a persone comuni, anche se non è ancora chiaro se ci saranno o meno affiancati personaggi famosi. Il messaggio diffuso su Instagram e Facebook diceva Hai sempre sognato di varcare la Porta Rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Grande Fratello sta cercando anche te. Continua a seguirci. La chiamata è aperta e i casting sono già iniziati per scegliere i futuri protagonisti del reality. Questo annuncio si conferma come una pietra miliare per il Grande Fratello, che sembra pronto ad esplorare nuovi territori nel panorama televisivo italiano. Rimane solo da attendere per vedere come questa nuova direzione cambierà il volto del programma più amato dal pubblico italiano. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato, lascia un bel mi piace e condividi il video. Grazie per averci seguito, a presto con un nuovo Gossip.